Ovviamente il fatto di avere un unico bottone, beh quello è chiaramente un escamotage donante a tutte le fisicità, quindi slancia il décolleté, è bella portata anche come stai facendo tu con uno scollo, quindi rimane molto femminile e va a risagomare la figura senza però darti l'impressione di avere addosso una giacca troppo costruita, cioè questa è ovviamente la chiave. Volevo far vedere anche lo spezzato, bellissimo. Perché sicuramente poi sul colore chiaro si vedono anche di più i dettagli, però è proprio bella, è proprio fatta bene. È fatta bene. Ma riusciva a far vedere e a raccontare perché a me piacerebbe che fossi proprio tu Simo a raccontare i dettagli, a far vivere la costruzione di questa giacca che insomma è pulita in tutte le sue cuciture. Non ci sono cuciture esterne. Non c'è un filo che pende, non c'è... Non ci sono impunture neanche a trattenere il revers, cosa difficilissima, quindi vuol dire che il tessuto ha un'estrema tenuta e ha un'estrema stabilità anche al taglio, perché a volte i tessuti... ... ...